Giovedì 7 luglio 2016, 150 architetti a Trento hanno partecipato al convegno Il Futuro dell'edilizia, convegno di infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Sul palco si sono succeduti interventi scientifici e presentazioni di prodotti da parte delle aziende presenti. Noi siamo sempre lieti di partecipare ai convegni fatti da Action Group, soprattutto per la possibilità di incontrare tanti progettisti e avere con loro un rapporto qualificato. La presentazione e la presenza di Fistra oggi a questo convegno è principalmente dovuta a due aspetti. Il fatto di coltivare ancora questo rapporto con i professionisti, anche perché ci sono crediti formativi, e presentare il nostro prodotto Crystal, che è una finestra innovativa in alluminio, la più performante attualmente in Europa, che ha la funzione più che atro, oltre che prestazionale, soprattutto estetica. Cioè è una finestra fatta tutta a vetro, come se fosse un iPhone, per farti capire. Quindi questa finestra abbina le prestazioni termiche di un seramento ad alte prestazioni con l'estetica minimalista, che oggi va di moda. Cioè è una finestra fatta tutta a vetro, come se fosse un iPhone, per farti capire.